Farfalle, concentratissime, pronte a scendere in pedana, la squadra dell'Italia è un tipo stupendo sempre. Sì, 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 anche al primo giorno di gare si fa sentire forte e chiaro, fino alla fine hanno urlato Ila. Ci sono un sacco veramente di bandieri con voi fino alla fine, eccole le nostre farfalle, ce le guardiamo assolutamente in silenzio. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 bravissime ragazzi che bello esercizio complimenti meraviglioso un esercizio un esercizio fatto impeccabile non ho colto veramente neanche poche sbavature hanno veramente calcato la pedana il tifo stupendo bellissimo il tifo che di solito viene guidato da Alessia Maurelli Laura Paris Martina Centofanti Agnese Duranti Daniela Maburean sono queste le cinque splendide giunnaste della nostra nazionale che oggi sono scese in pedana a difendere i colori azzurri veramente impeccabile non c'è proprio non c'è proprio l'esercizio